Sono Tomas Cioppi da Slovenia, sono da metà l'anno scorso con Fast & Furio Team, con questi bravi ragazzi, tutti famosi. Penso che andiamo bene, che si lavora bene, speriamo che quest'anno facciamo belle regate, che gli altri vedono che siamo un grande team. Io ho cominciato a fare vela anni 10 da Optimist e poi sono andato dopo 4.20, in 4.70 ho fatto tre Olimpiadi come timoniere e ho fatto anche tre Olimpiadi come allenatore. Sono anche in altre barche come RC44 con Team Nica. Siamo qua a Portofino, che è la prima regata di quest'anno, andiamo bene, speriamo che andrà bene tutto l'anno, con altre legate diciamo in Mar Ligure e Mar Tireno e poi fino alla fine andiamo a casa a Barcolana a fare un bel risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.